Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arna e Giannina Oggi prepariamo insieme una glassa specchio favolosa che con il suo colore rosso acceso renderà le vostre torte uniche e irripetibili Vediamo con quanta semplicità si può preparare a casa la glassa specchio Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo 15 g di gelatina in acqua molto fredda per 10 minuti In un pentolino aggiungiamo 110 ml di acqua, 225 g di zucchero e 225 g di sciroppo di glucosio Trovate i link del nostro video in descrizione Lasciamo andare il composto sul fuoco finché non raggiungerà 103 gradi A questo punto togliamo la pentola dal fuoco e aggiungiamo la gelatina strizzandola bene Mescoliamo con un frustino finché quest'ultima sarà amalgamata correttamente Ancora caldo aggiungiamo il composto a 225 g di cioccolato bianco tagliato a scaglie e mescoliamo bene Poi versiamo 150 ml di latte condensato, trovate sempre il link del nostro video in descrizione E amalgamiamo bene l'ingrediente Adesso ci occupiamo dei coloranti, ma prima di procedere aggiungiamo qualche goccia di colorante bianco Che ha la funzione di rendere più vivace il colore dominante Aggiungiamo un colorante del colore che ci piace di più, nel nostro caso il rosso E guardate che bel effetto visivo crea il colorante! Davvero meraviglioso! Con l'aiuto di un Bimipimer finiamo la glassa a specchio Nell'emulsione che dobbiamo fare, dobbiamo tenerlo sulla metà dell'altezza della ciotola Così che si formi un vortice che permette di mescolare in modo perfetto la glassa Per eliminare eventuali bolle d'aria, travasiamo la glassa in un passino e copriamo con pellicola a contatto Si può conservare nel frigo fino a 3 giorni, nel freezer invece fino a 3 mesi Poi alla temperatura di 34 gradi sarà pronta da utilizzare per rendere speciali le vostre torte Coprendole interamente con questa glassa lucente Ma aspetta! Se vuoi trovare la torta perfetta per questa glassa, trovi il link in descrizione Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia E noi auguriamo a tutti una splendida giornata Ciao amici e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche